Mai dire mai, Willy Peiote con la locura, mai dire mai anche su cosa volete vedere in città. Ad esempio io ho degli eventi, adesso vediamo se li dice anche Eri B, io ce li ho degli eventi per stasera, però anzi per stasera e per domani, ma do la parola e lo do con la sigla della sua rubrica a Eri B. Buongiorno, gli eventi della settimana a cui io Eri B non andrei, bentornati e buon anno. Buon anno a te Eri B, allora vedi, torni anche con la sigla, sei contenta? Vi posso dire perché la scorsa settimana non c'ero? Sì, sentiamo. Non c'erano perché tutti gli eventi della scorsa settimana erano già eventi a cui io non sarei andata natalizi, quindi ho detto no, senti, non voglio ammorbare la gente su questa cosa. Ok, e invece allora questa settimana dove non ci vuoi portare? Allora, 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 ho degli eventi che sono questo fine settimana, magari sono gli stessi dove tu vorresti andare, chi può dirlo? Dubito. Inizio a dirtine uno, sabato 13 gennaio, cioè domani, a Live Music Club di Trezzo sull'Adda. Grande live di Trezzo. Chi è che c'è? Chi potrebbe esserci? Willy Peyote. No, no, c'è una roba che c'è sempre, quindi c'è l'ottocco. La cover band di chi? No, non c'è una cover band, c'è Cristina D'Avena insieme ai J-Boy. Io non so, raga, da quanti anni è che vanno avanti questi. Tra l'altro è sempre lì. Sempre lì, ma io mi dico, ma ci sono persone nuove che vanno oppure sono le stesse persone che ci ritornano? Secondo me ci ritornano. Io no, no. Facciamo un test, Viola, conosci Cristina D'Avena ai J-Boy? Sì, Viola li conosco, ok, classe 2003, giusto Viola? Spero che sia andata almeno una volta a vederli o che... No. No, perfetto. Comunque costa 20 euro. Vabbè, 20 euro, mai con 20 euro non ci fai più niente. Ma lo fanno una volta, ogni due per tre, cioè, qualche meno di, che ne so io, degli sciopero di ADM. Poi c'è questa cosa che mi piaceva il titolo in realtà, ma non c'entrae perché, vabbè, è una roba dove si fa tunz tunz e si balla, quindi non mi interessa. Ma all'arcibellezza, sabato alle 17.30, non so neanche perché, c'è la notte dei CBCR. Cresci bene che ripassa. Esatto, esatto. Rocket, quindi, boh, non lo so bene che cosa sa. Spieghiamo bene cos'era il CBCR. Ah, CBCR era una cosa che si diceva negli anni 90 e inizio 2000, che spero che non venga più detto in realtà, che quando un ragazzo era piccolo o una ragazza era piccola, lo vedevi e dicevi, ah, caspita, CBCR, cioè, cresci bene che ripasso. Penso fosse una cosa molto, molto femminile, cioè nel senso che voi ragazze dicevate ragazzini, era molto più così che anche meno inquietante, se ci pensi. Sì, esatto. Però, vabbè, lasciamo stare. Poi, una cosa che in realtà c'è da un po' di tempo, dal 14 dicembre, e durerà fino al 10 di marzo, quindi, la miseria, la voglia, in piazza Beccaria, dove c'è il comando dei vigili, diciamo, più o meno lì, c'è Space Dreamers. È l'incredibile mostra per viaggiare nello spazio e sbarcare su Marte, ma perché dovrei farlo? In che senso? Esatto, boh, ti immergi. Ma in che senso perché non dovresti farlo? Beh, ti immergi, è immersiva. Ma che mi frega, sto bene qua? Ah, ok. Sto bene qua? E ma sai che quel mondo, non abbiamo, there is no planet B, quindi ci serve. Sì, vabbò, ma fa niente. Dalle 11 alle 20 e costa solo 17 euro. Vabbè, dai. Ok, preferisci che ti lascio con una roba un po' sui cartoni animati o su un'attività da fare? No, per cartoni animati abbiamo già parlato di Cristiana Vena, andiamo sulle attività da fare. Ok, quindi ti chiudo con quello dei cartoni animati. No, no, sì, ok, chiudimi con i cartoni animati poi. Ok. Allora, intanto ti puoi allenare per la Stramilano. Ok. E c'è lo Stramilano Training. Ah, go. Sì, Training. Ah, no, non è quella sotto zero. Cioè ti prepari. Ok. Domenica alle 9 e un quarto al Parco delle Cave si trovano e vanno. Eh, ho da fare. Raga, ma perché? Cioè, chiamatelo con un altro nome, andiamo a correre tutti insieme. Bel nome, però si lavora nel marketing, complimenti. Comunque, se volete fare la Stramilano c'è un gruppo di matti che si sta già organizzando per fare questa roba. Va bene. Ti lascio con una cosa che magari ti potrebbe piacere. Ok. A me non piace, ti faccio la premessa, perché come non mi piacciono gli occidentali che vanno in Oriente e si vestono con i vestiti occidentali, non mi piacciono neanche le rievocazioni qua del mondo dell'Occidente, in sostanza. Del mondo dell'Oriente. Dell'Oriente. Ah, ok, va bene. Quindi c'è questo evento che si chiama Da Goldrake a Sailor Moon, anime e astronomia, 12 gennaio, quindi oggi, alle 21, è gradito abbigliamento cosplay, al planetario c'è una serata sull'astronomia, ma dovete vestirvi come Goldrake e Sailor Moon. Ciao, divertitevi. Va bene, no, non ti piace, ma qui è una critica al cosplay proprio. No, no, cioè sì, è una critica al cosplay, mi dispiace, non è proprio nelle mie corde, vi trovo anche abbastanza... Non dirlo, non dirlo, non dirlo, non dirlo. No, 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 l'ha detto, l'ha detto, l'ha detto, l'ha detto, l'ha detto. Va bene, allora, Eribi, grazie mille, noi ci risentiamo venerdì prossimo. Hai nominato gli anni 90, beh, c'era una canzone che spopolava tra quelli come me degli anni 90, da quelli che ascoltavano il Grunge, o il Grunge, forse è meglio dirlo così, erano in Irvana con Smells Like Dance Spirit, Teen Spirit.